oggi ragazzi parliamo di una cosa molto importante che però spesso viene sottovalutata è che quando noi mettiamo due batterie in serie che siano due batterie a gm due batterie a litio per avere i 24 volt e questa è una cosa abbastanza comune sulle barche che hanno i servizi o i motori anche con l'avviamento 24 volt ci dimentichiamo sempre di montare qualcosa che tenga le batterie equilibrate e questo è deleterio per le batterie se una delle due batterie dovesse per qualche motivo non essere caricata completamente o semplicemente è un po più deteriorata nel tempo questo squilibrio non permetterà più avere le batterie uguali e quella diciamo peggiore andrà a rovinare anche la batteria ancora buona e ci sarà un effetto cascata e quindi tutte e due decadiranno molto velocemente cosa si può fare si può mettere un qualcosa un piccolo device che serve per equilibrarle e questo fondamentalmente questo che vi sto mostrando della victor on energy e il battery balancer questo permette proprio di equilibrare le batterie quando si vanno a caricare andiamo a vedere cosa c'è nella confezione e così mi mostrerò anche come va collegato classico manualino come vedete si può si può utilizzare anche per impianti più complessi si possono mettere anche 2 3 4 batterie quindi arrivare anche a 48 volt volendo però il sistema classico è questo con due batterie a 24 volt se uno avesse necessità di fare la stessa cosa con tre batterie da 100 per esempio per un motore di prua a 36 volt basta che ne acquisti due e usa lo schema per andare a fare i collegamenti ed è questo qui come vedete è molto piccolo e qui ci sono tutti i vari i connettori dove devono essere inseriti i cavi non abbiamo bisogno di cavi estremamente importanti perché questo lavora con correnti ridotte sull'ordine di qualche ampere uno due ampere che servono semplicemente ad equilibrare il tutto il primo è per il polo a 24 volt c'è quindi la seconda batteria qui c'è il polo centrale quello che tra positivo e negativo di quando si va a fare la serie tra le due batterie e il quarto è in pratica il polo con il negativo qui abbiamo altri due morsetti che sono secondo me anche molto importanti possiamo andare collegare un allarme un buzzer e avremo sia l'allarme quando una delle due batterie avrà un voltaggio troppo alto oppure una batteria avrà un voltaggio troppo basso in questo caso suonerà l'allarme e per disinserire questo allarme dovremo agire sul reset con un altro pulsante in definitiva con questo piccolo accessorio atterrete sempre le batterie ben equalizzate e vi dureranno molto di più il problema sta che noi andiamo a caricare queste batterie praticamente quasi sempre con 24 volt quindi le carichiamo tutte e due in serie se una è un po' più rovinata non esisteranno mai due batterie che fanno la stessa identica vita pian pianino questa cederà prima l'altra sarà più caricata del normale perché mettiamo che una arrivi a 10 volt adesso faccio un esempio esagerato l'altra sarà 24 cioè 14 10 più 14 fa sempre 24 però una sta finendo di vivere mentre l'altra povera è presa per il collo per perché sovra ha una sovratensione con questo battery balancer andiamo a risolvere il problema in descrizione trovate il link se vi interessa acquistarlo e ci vediamo il prossimo video ciao